Sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo, fammi scendere, no non ci credo, non ci credo, il personaggio è rimasto sopra, no, no, forse la strada è libera, no, ok, no, prendo, prendo il checkpoint, non ci credo, prendo il checkpoint! Eccoci qui ragazzoli alla terza gara, Splash Bow, creata da un mio caro amico italiano, io mi chiamo Bow, che forse qualcuno di voi già conoscerà, e ragazzi è una gara GTA con una specie di imbuto, guardate lì, alieno, si prospetta il bordello ragazzi, chi è che fa bordello, non cazzo di nessuno, figa, 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 saliamo sulle macchine, figa, andiamo subito al primo posto, leviamoci da, da quel casino lì di auto, e no, guardate che tubi trollosi, va bene, va bene, facciamo un epic win, questo che mi butta per aria giustamente, e ora senza, senza scrupoli raga, sì, senza scrupoli, buttiamo anche noi, no, guarda, ma che cazzo di sfortuna è, il karma, oh, ok, c'è il salto qui, c'è un salto, cos'è? No, è proprio una, c'è delle palme, ah, meno male, si sale sopra, pensavo di, di andare a scontrare, no, troppo veloce forse, che cazzo è ragazzi, mamma mia, mi ha fatto una gara così, ho creato io, una gara una volta così simile, e ora? C'è il checkpoint qui raga, mamma mia, qua si prospetta il macello raga, perché ci sono i missili, vabbè, intanto noi prendiamo il checkpoint, levati, guardatelo, guardatelo, no, 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 qui mi scoppiano, ok, sto cadendo giù, sto cadendo giù, ah, forse questo è il tubo dove, dopo scendere, che figata però, però no, dobbiamo assolutamente prendere i checkpoint, levati, ok, preso, 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 siamo in quarta posizione, levati, preso, quarta posizione, sempre, forse così, levati, Porca Eva, levati, che devo vincere sta maledetta gara, abbiamo due giri quindi, mamma mia ragazzi, noi cominciamo a metterci le bombe adesive per, guarda, quello mi ha puntato, porca Eva, dai, levati, levati, altro checkpoint qui, e vabbè, vabbè ragazzi, non scoppiare, però non capovolgerti neanche, ok, c'è un altro checkpoint qui, sì, perfetto, 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 è tutto così ragazzi, un altro checkpoint, altro qui, e forse poi dovrei mandare l'imbuto, se è la logica, non mi inganni, Guarda, stavo prendendo il checkpoint, bastardo, dai, 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 manteniamo questo ritmo, perfetto, eh, vaffanculo, pure tu ora, vaffanculo, pure tu, no, non cadere nel buco, no, ragazzi, ho caduto, ok, prendiamo sto, caspita di checkpoint, ah, finalmente, un altro checkpoint lì, quanti cazzo, ah, che cazzo sto succedendo, ne ho sceso uno, cado di nuovo nel buco, devo prendere sto checkpoint, datemi sto checkpoint, ah, ora sì, sì, ora bisogna scendere giù, vaffanculo, FATATTI! Così, e fanculo tutti, fanculo tutti, fanculo tutti, fammi scendere, fammi scendere, no, bastardo, una tripla di SMCJ, vabbè, lo andiamo di dietro a marcia, ragazzi, cadi, scendi, scendi, dai, scendi, 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 sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo, sto scendendo, fammi scendendo, no, non ci credo, non ci credo, il personaggio è rimasto sopra, no, no, Sto scendendo ora, prendi il checkpoint, no, non lo prende, scendi, scendi, ok, ragazzi, stiamo scendendo, finalmente Facciamo una strage qui Facciamo una strage No ci sono solo uno Siamo quarti però Ottimo così quarti Aggiustiamoci l'auto Missile Le mine di prossimità no Ragazzi se volete giocare con me le gare Mine di prossimità no Perché appena le vedo vi mando affanculo Di bestemmio contro Perché sono troppo overpower Se tutti le usassero Madonna guardate dove sono uscito Ah questo è respawnato Lo volevo uccidere Ce la facciamo fare un salto più epico Un recupero epico Vabbè continuo la gara qua non me ne fotte Sti cazzi ragazzi sti cazzi Tanto non prendiamo il checkpoint Spero di si però ora devo per forza respawnare No guardate Il personaggio mio Che cazzo fai prendi sto checkpoint Mamma mia ragazzi le comiche Le comiche Faffanculo Ok questo è una bomba adesiva Già messa A questo punto devo dire la strada Devo dire la strada Perché sicuro ci sono bombe Di prossimità Mine di prossimità Dappertutto ragazzi Siamo al sesto posto ragazzi C'è un'altra curva qui Diffatiamo Diffatiamo duro Il primo posto è a Un minuto e ventitré addirittura Da noi E vabbè ragazzi forse l'ha fatto subito Proviamo proviamo ragazzi a recuperare Mi dispiace per te Amicone Ti devo uccidere Abbiamo ucciso Ivan 25 25 Siamo al quinto posto Voglio assolutamente il podio ragazzi In questa gara super pazza Super Estrema Curva tattica qui Turbo qui Non No ok Non è bello Sto fatto che si blocca l'auto lì Dai muoviti Mi dispiace per il compagno qui ma Vai Ok 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 ci siamo ci siamo ci siamo ci siamo Ok perfetto Prendiamo il checkpoint Perfetto così Levatevi Qui c'è gente con le bombe Che stanno scendo le bombe con le mani Guardate qui Acrobazie Mantieni di auto Ok Bravo Cyrus Bravo Cyrus Bravo Cyrus Ora prendiamo tutti i checkpoint Non ha preso il checkpoint Mi sono passato dentro raga Incredibile Ok lo l'ha preso Corriamo così raga Sopra tutto così nessuno ci rompe coglioni C'è anche qui Ivan Buttiamolo fuori Però non senza cadere noi Buttiamolo fuori raga Ok il checkpoint è più giù ora Per fortuna ancora dobbiamo venire Siamo terzi abbiamo curato un'altra posizione Voglio il secondo post assolutamente Sì sì Uno così Uno così ancora Dove c'è Ah siamo dobbiamo andare già giù Questa volta siamo andati velocissimi ragazzi Questa volta siamo stati velocissimi Ok ragazzi scendiamo giù con loro Dai muoviti Ah l'ho ucciso Ora fammi passare Cazzo raga non scende l'auto Ragazzi l'auto non scende Cadi scendi giù Raga l'auto non scende Buttati giù Sto prendendo fuoco Non si può scendere raga C'è un'auto che blocca Sto prendendo fuoco Levatevi No 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 raga è incredibile Avete visto ciò che è successo Questo lo raccontate a vostri nipotini Nella storia Nella storia Prendi sto missile Sfonda tutti Una doppia Vai vai muoviti Muoviti Ok siamo caduti per fortuna Finalmente siamo al terzo posto Bene così ragazzi Bene così siamo al terzo posto Prendiamo il turbo qui Ottimo Quanto ci manca? Ah 42 secondi Quindi quasi impossibile recuperare Il secondo e il primo posto Ma va bene così raga Un altro podio In una gara Veramente Cioè Giocare con 18 persone Ora ne siamo Forse ne eravamo di più In questa maniera Di nuovo allo stesso punto Stavo Mi stavo cappottando Quanti fei le sto facendo C'è qualcuno dietro Vabbè lo Lo bruciamo proprio Cioè Che lo dico a fa No L'ho Ho mancato No Le mine prossimità ho scelto Tagliamo di qua No però facciamo la prova così raga Guarda bastardo 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 Fatto saltare in aria The Cortex Non era il mio intento Volevo uccidere il Il terzo posto Vabbè raga Intanto vabbè Facciamo fare una brutta fine Questo che c'è dietro Forse con i missili Neanche con i missili No con i missili si Vabbè raga Andiamo a chiudere In quarta posizione Questa gara qui E ci vediamo subito All'ultima gara ragazzi Quarta e ultima gara ragazzi Super Shmoof Una gara di Senlan Questa volta abbiamo scelto Rosiris Siamo sempre un mucchio Salvaggio di persone 3 2 1 E partiamo ragazzi Cerchiamo Come sempre di levarci Guardate questo Come lag Come salta Ragazzi io spero Veramente vivamente Che non mi rompano i coglioni Purtroppo ci lascio Attivate Quindi qualcuno per forza Ragazzi qui di poter Prepotenza Sì 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 Ci siamo saluti Oh no 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 Perché mi buttava quello Boh Certe cose non le capisco Ok siamo qui Questa curva Ora dobbiamo Sperare questi due Eccolo Quello di prima Che mi stava E come sempre Di nuovo Di nuovo Mi rompe i coglioni Di nuovo mi rompe i coglioni Vabbè Bro ti tengo di mira Che cazzo è successo Alla macchina No vabbè Tienila Tienila Vabbè raga Cioè cose che succedono Solo a me Però vabbè Ci siamo Ci siamo Ci siamo Sono quarti No quinti Quarti 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 Ok L'ho detto bene Dobbiamo recuperare Gli altri Curva qui Curva tecnica Tagliamo così bene Chic al terzo posto Guy Luis E Dick health Dobbiamo recuperarli Raga Qui c'è Chic Che già sa Già sente Qual è il karma Perché va così piano Mi vuole far passare Sì Mi voleva far passare No Eh raga Questa è una Un fottuto troll Questa parte qui Non me lo sa mai aspettato Non so voi Ma qui penso che C'è bisogno di Più velocità Non vedo un cazzo Ah si torna avanti Indietro Non un'ottima Un'ottima Cosa da sapere Riusciva a prendere Il checkpoint Sì 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 Non voglio respawnare Subito Però mi sa che devo farlo Ragazzi Secondi Dobbiamo sperare E difficilmente Credo di non trovare Nessuno Nei paraggi Scendendo è molto Più facile Ci siamo Prese il checkpoint Fanculo a voi E siamo primi Addirittura Siamo primi A un po' di fortuna Finalmente In questa ultima gara In questo speciale episodio Ragazzi Bello Bello Lungo Bello grande Spero che voi siete ancora qui A seguire il video Se è così raga Vi ringrazio veramente di cuore Se è così Significa che forse il video vi è piaciuto Quindi lasciatelo sto like Tanto non vi costa nulla È gratuito Non vi arriva Equitalia a casa O a voi A vostri genitori O a chi per resto Non si pagano tasse ragazzi Quindi Vabbè ci siamo intesi Lasciate sto like Che può solo far aiutare Per farmi conoscere Da più persone italiane Che è quello che fondamentalmente Voglio Comunque continuiamo la gara E raga Dobbiamo sperare che In tutto questo tempo Dove noi stiamo facendo sto giro Gli altri Abbiano fatto lo stunt Ok questa volta ha funzionato Possiamo anche permetterci di fare Una bella capriolona Con stile Cadiamo Perfetto Quindi raga Io spero che Che aumenti Sempre di più la community italiana Sapete Sto cercando anche di fare collaborazioni Con altri youtuber Cercherò anche di contattare Dagsta se lui vuole L'ho fatta anche con Fanatic Siamo quasi qui ragazzi C'è Dickens Che se non è Arreggiato E ha chiuso Ragazzi Allora Proviamoci 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 Ok perfetto ragazzi Stupendo comunque Questa spirale E ci siamo riusciti Benissimo Quisi perfetto Qua non vorrei responare Vorrei fare una cosa bella figa Così tutto insieme Senza responare Guardate qui Piroetta a caso Raga Mettiti dritto Perfetto Così Mi piace No 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 Mantieni Ragazzi non voglio assolutamente Perdere la prima posizione Abbiamo un minuto addirittura Di vantaggio Quindi Dobbiamo riuscirci Assolutamente Scusami bro Ma non l'ho fatta apposta Mantiniti 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 Ci siamo Ci siamo Non cadere L'importante è non cadere Ragazzi Guardate nella vita L'importante è non cadere Siamo caduti Ah ma si può cittarli Praticamente lì ragazzi Si può cittare Perché Vabbè Vaffanculo Ok ragazzi Se di nuovo Mi buttano fuori Io citto Me ne fotte un cazzo Perché sinceramente Non posso Ok Citto Perché non posso buttare Una gara Sono questi troll Che vengono contro Ma vaffanculo Anzi si sta facendo Più dura del previsto Sta gara Si sta facendo Veramente più dura del previsto Forse la strada è libera Forse la strada è libera No Ok No Prendo il checkpoint Non ci credo Prendi il checkpoint Non ci voglio credere Mi viene da piangere ragazzi Mi viene Fottutamente da piangere Guardate qui Vabbè raga Andiamo a cittare Perché sinceramente Dopo sto salto Qui dopo la Decima volta Che mi hanno Stuprato Io non posso Perdere una gara così Non posso Però non so Anche se si può cittare A sto punto Ma io ci provo Non si può cittare Ragazzi Cazzi Mi dispiace Scusatemi se l'ho fatto Ma dovevo farlo Cioè Una cosa incredibile Dopo Diecimila volte Che mi sono avvicinato Cioè come ti avete visto La cosa ridica Andiamo a chiudere Almeno una gara L'ultima In prima posizione Anche se non proprio Legittimamente Ma sti cazzi ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Nel caso non siete iscritti Ragazzi Iscrivetevi per Questi video Video informativi Sempre riguardo GTA Video di Black Ops E altro E ragazzi Ci vediamo Sicuramente Nel prossimo video Fallow 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 Fallow